welcome to this session benvenuti in questa sezione oggi andiamo a vedere saluto al sole a e b secondo lo stile yoga ashtanga today we are going to see the surya namaskara a and b so the sun salutations according to the ashtanga style so we start the lesson standing up cominciamo mettendoci in piedi un bel respiro profondo a couple of deep deep breath gently hands in front of your chest mettiamo le mani di fronte al petto gomiti alti elbows up we're going to start the lesson chanting 3 om cominciamo la lezione cantando 3 om quindi un grosso inspiro per lo a big inhalation for the om 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 shanti 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 take a deep breath un grosso respiro sciogli le mani release your hands couple of seconds in this pose just to find your concentration restiamo ancora qui per qualche secondo per trovare ancora un po di concentrazione ok benissimo ci mettiamo davanti al tappetino let's go in front of our mat first thing i'm gonna show you step by step pose by pose the surya namaskara e la prima cosa che andiamo a fare è posizione dopo posizione andiamo a vedere appunto questo surya namaskara a quindi un passo alla volta let's go in front of our mat feet together the first pose is samasthiti fit together la prima posizione forse una delle più importanti per l'ashtanga yoga è samasthiti tutte le posizioni in piedi partono da questa posizione tornano in questa posizione samasthiti is one of the most important pose because it's the starting point for every segment for every routine for every standing pose in astanga yoga so feet together roll your shoulders back chest out hands close to your body quindi piedi uniti ruotate le spalle all'indietro mani vicino ai fianchi e respiriamo in samasthiti let's breathe in samasthiti then inhaling we go up to the sky with our hands in urdana mascara inspirando andiamo su con le braccia guarda il pollice look at your thumb this is the first step in the surya namaskara questo è il primo passo che facciamo nel surya namaskara a ispirando andiamo giù completamente completely down to your feet questa è la seconda parte ispirando sulle punte delle piede allunghiamo la spalla inhaling again we go with our fingertips look forward lengthen your spine e respira profondamente ok so bend your knees let's go up for this first three poses ok ci risolleviamo su rivediamo ancora una volta i'm gonna show you one more time on the side view ok dal punto di vista laterale quindi inspira inhale up to the sky look at your thumb inspira vai su verso il cielo guardiamo le nostre dita espira exhaling we fall down espirando andiamo completamente giù sulle nostre gambe we go completely down quindi cerchiamo di andare completamente giù ispirando sulle dita allunga la spina inhaling again lengthen your spine look forward ok and again exhaling we go in chaturanga dandasana ispirando appoggiamo bene le mani un passo indietro un passo indietro chaturanga dandasana ok down let's stop here for a while fermiamoci qui per il momento quindi noi siamo in questa posizione we are in this pose so lengthen your spine schiena dritta appoggiamo le mani we place our hands on the floor and gently we go back in chaturanga dandasana ok if it's too much for you you can drop your knee on the floor andiamo nel chaturanga se però è troppo per voi restare in questa posizione appoggiamo le ginocchia a terra espirando poi praticamente andiamo giù excelling we go down inhaling ispirando andiamo in upward facing dog nel cane a faccia in su so inhaling again we go from chaturanga i'm gonna show you one more time from here we go in upward facing dog if it's too much for you you can drop your knees on the floor and then gently go up anche qui se è troppo appoggiate le ginocchia a terra e andiamo in questa posizione quindi inspira in questa posizione inhale from this pose then exhaling espira ci solleviamo nel cane a faccia in giù exhaling we go in downward facing dog adho mukha svanasana so basically focus your attention on lengthen your spine presta la tua attenzione nell'appiattire la schiena appoggiare i talloni a terra so try to place your attention on the back so if you need at the beginning you can keep your knee a little bit bending and then gently you can go with your heels down se all'inizio troppo complicato pieghiamo un pochino le ginocchia per focalizzarci sulla schiena e poi piano piano stendiamo in questa posizione facciamo cinque respiri in this pose so in adho mukha we do five deep breath so back in adho mukha stay here for five breath then gently bend your knees poi piega dopo aver fatto i respiri piega le ginocchia guarda davanti a te and slowly come back torniamo e ci abbandoniamo totalmente we fall down completely again inhaling up inspirando andiamo su di nuovo guarda il pollice look at your thumb again exhaling samastiti espirando samastiti facciamo dei ben respiri profondi intensi ok proviamo ancora let's try i'm gonna repeat one more time in a very slow motion step by step and then gently we're gonna see we're gonna do rounds together so piano piano lo facciamo posizione dopo posizione e poi andiamo a fare dei round tutti insieme tenendo i cinque respiri che dobbiamo tenere quindi praticamente let's go in front of our meta andiamo davanti al nostro tappetino inhaling ispira braccia verso il cielo arms to the sky look at your thumb guarda il tuo alle tue mani exhaling down respira andiamo completamente giù inhaling place your hands on the floor inspira lunga la schiena il più possibile espira chaturanga exhale we go in chaturanga dandasana then inhale upward facing dog inspirando andiamo nel cane che guarda in su espirando cane che guarda in giù exhaling downward facing dog we stay here for five deep breaths try to focus on your spine if you need you can micro bend your knees and keep breathing for one two three four and five bend your knees look in front of you and gently you jump up release your body rilassa completamente il corpo in inhaling up inspira vai verso il cielo exhaling down espira samastitri facciamo un paio di respiri profondi let's do a couple of deep deep breaths ok now we can just add a little bit more to this surya namaskara e possiamo aggiungere solo un pochino perché possiamo provare a saltare all'indietro quindi quando siamo giù invece di camminare in chaturanga possiamo provare a saltare now we can try to add a little bit more when we are like this and we need to exhale in going back in chaturanga what we can do is place our hands on the floor quindi possiamo posizionare le mani sul tappetino saltare all'indietro jump back then gently chaturanga dolcemente chaturanga and upward facing dog il cane che guarda in su again if it's too much you can walk back you can go with your knees on the floor ok se troppo ricordatevi potete camminare all'indietro potete semplicemente scendere con le ginocchia a terra poi altra cosa importante nel cane a faccia in giù anche qui possiamo appoggiarci ok also another important thing is in the upper facing dog if it's too much for us we can just place our legs on the floor try to roll back our shoulder and look up quindi guardiamo in su rotoliamo le spalle all'indietro e siamo con le gambe a terra se è troppo stare su ok and slowly let's go in child pose for a moment andiamo nel bambino per qualche istante ok slowly get up piano piano solleviamoci respiriamo couple of deep breath breath now we're gonna do three rounds all together ok facciamo adesso tre round tutti insieme so andiamo davanti al tappetino let's go in front of our mat samastiti couple of deep breath before we start let's go andiamo inhaling up inspira verso il cielo guarda le mani exhaling down espira andiamo completamente giù completely down inhale length in your spine allunga la spina exhaling place your hands on the floor chaturanga chaturanga ispirando inhaling upward facing dog inspirando cane che guarda in su e ispirando cane che guarda giù exhaling we go in downward facing dog adho mukha and we stay here for five breath stiamo qui per cinque respiri profondi you can micro bend your knees if it's too much puoi leggermente piegare micro piegare le tue ginocchia resta qui ancora per qualche respiro respira profondo then gently look in front of you piano piano guarda di fronte a te torniamo davanti let's go back fall down completely cadi completamente inhaling up inspira verso il cielo look up guarda su exhaling samastiti quindi espira samastiti facciamo un respiro profondo let's do a big deep breath let's go for the second round e andiamo per il secondo round inhaling up inspira mano verso il cielo look at your thumb guarda verso il cielo exhaling down ispira vai completamente giù inhaling ispira allunga completamente la spina exhaling chaturanga ispirando andiamo in chaturanga inhaling upward facing dog inspira cane affaccia in su espira cane affaccia in giù exhaling downward facing dog ad omukha and stay here for 5 breaths resta qui per cinque respiri if you need you can micro bend your knees se hai bisogno puoi leggermente piegare le ginocchia focalizzati sulla schiena put your awareness on the back and breathe for one two three four and five bend your knees look forward piega le ginocchia guarda davanti a te vienitele davanti let's go in front fall down completely abbassati completamente inhaling arms up inspira braccia verso il cielo exhaling samastiti espira samastiti stay here for couple of deep breaths resta qui per un paio di respiri profondi respira keep breathing respira keep breathing let's go for the last round andiamo per l'ultimo round davanti al tappetino in front of our mat samastiti cominciamo con samastiti inhaling arms up inspira braccia verso il cielo look up exhaling down espira vai giù completamente inhaling length in your spine inspira allunga la schiena completamente exhaling place your hands on the floor chaturanga espira andiamo in chaturanga inhaling upper facing dog inspira cane a faccia in giù espira cane a faccia in giù exhaling downward facing dog try to bend to keep your awareness on the back so you can micro bend your knees cerca di mettere l'attenzione sulla schiena poi micro piegare le ginocchia stai qui per cinque respiri let's do five deep breaths then gently bend your knees piega le ginocchia guarda di fronte a te look forward and you go in front vai di nuovo davanti abbandonati completamente exhaling down inhaling up to the sky inspira su verso il cielo exhaling samastiti espira samastiti apri le gambe sole legs apparently be shoulder back apri le spalle close your eyes and breathe chiudi gli occhi e respira per qualche secondo e and breathe ok hope is clear if it's not you can send me a comment you can send me a feedback and I will reply se vi è chiaro potete andiamo avanti altrimenti mi mandate un commento o anche un feedback adesso ci muoviamo per andare a vedere il suriana mascara B quindi il saluto al sole B che è composto da 17 posizioni now we are going to see the suriana mascara B that is composed by 17 different posture ok also in this case I will start slowly and then we gonna see step by step pose by pose anche in questo caso partiamo piano piano andiamo a vedere posizione dopo posizione ok so let's go in front of our mat respiriamo qui samastiti and then slowly inhaling we go in utkatasana inspirando scendiamo col sedere ci apriamo in utkatasana chair pose exhaling down ispira come prima ce ne andiamo a terra inhaling length in your spine inspira allunga la spina espira anche qui ce ne andiamo in chaturanga exhaling chaturanga dandasana so slowly inhaling you can bring your knees on the floor ispira inspirando potete appoggiare le ginocchia a terra ce ne andiamo in cane a faccia in su respira exhaling downward facing dog espirando cane a faccia in giù gamba destro right leg in front turn your back foot because we are gonna enter in warrior A ok che cosa facciamo dal cane a faccia in giù ci solleviamo girando il piede controllate l'allineamento check your alignment we enter in warrior A nel guerriero numero 1 quindi giriamo il busto turn your upper body arms up to the sky look up mani verso il cielo guarda in su e respira exhaling exhaling we go back in chaturanga espirando andiamo di nuovo in chaturanga upward facing dog cane che guarda in su downward facing dog cane che guarda in giù this time left leg questa volta gamba sinistra stessa cosa check your alignment turn your back foot gira il piede di dietro guerriero A warrior A look up to the sky gently back in chaturanga andiamo di nuovo in chaturanga dandasana upward facing dog cane che guarda in su cane che guarda in giù downward facing dog and this time we stay for 5 breaths questa volta restiamo per i 5 respiri keep breathing look in front of you walk back camminiamo davanti scendi completamente fall down completely and then inhale we go back in utkatasana inspirando andiamo di nuovo chair pose exhaling samastiti ispirando samastiti facciamo un bel respiro profondo let's do a big breath now let's see the new poses in this sequence vediamo le nuove posizioni in questa sequenza noi partiamo da samastiti normally we start from samastiti this time we breathe we go down like we wanna sit on an imaginary chair come se volessimo sederci su una sedia immaginaria sulle braccia up to the sky you can bring arms together ok? this is chair pose I'm gonna show you this side questa è la posizione della sedia quindi ancora siamo in samastiti inspira scendi sulle braccia up to the sky look up and then we fall down exhaling e poi scendiamo come l'altro inspirando espirando e restiamo qui in questa posizione ok? then again inhaling length on your spine ancora allunghiamo la schiena ok? poggia i palmi place your hands on the floor chaturanga andiamo in chaturanga ok? upward facing dog cane che guarda in su possiamo anche appoggiare le ginocchia we can bring our knees down it's up to us according to our body then slowly downward facing dog piano piano andiamo di nuovo nel cane a faccia in giù and for the first time we don't stay for the five breaths because we're going warrior one warrior eight per la prima volta non restiamo coi cinque respiri ma andiamo in guerriero uno quindi gamba destra right leg in front turn your foot gira il piede di dietro check your alignment controlla il tuo allineamento guerriero uno guerriero A warrior A so basically we turn completely our torso ok? and then gently arms up look to the top braccia verso il cielo guardiamo le mani we don't need to go too lower because otherwise we're gonna collapse with this leg non dobbiamo andare troppo in basso altrimenti collassa la gamba cerchiamo semplicemente l'allineamento we need to check all the alignment ok? turn completely and up completamente e su poi piano piano ce ne andiamo giù slowly hands down on the floor for another chaturanga per un altro chaturanga again upward facing dog cane che guarda in su downward facing dog cane che guarda in giù now it's the time for the left leg adesso andiamo con la gamba sinistra same thing for the warrior A stessa cosa per il guerriero 1 quindi controlliamo l'allineamento check your alignment check your back leg turn your torso quindi controlla l'allineamento controlla la gamba di dietro gira completamente il busto braccia verso il cielo arms to the sky and look up then gently we go back in chaturanga piano piano torniamo in chaturanga dandasana and we do again so chaturanga ancora chaturanga upward facing dog cane che guarda in su cane che guarda in giù downward facing dog and this time we stay here for five breaths questa volta restiamo qui per i cinque respiri let's stay here focus on your back you can micro bend your knee resta qui concentrati sulla schiena puoi piegare le ginocchia and after the five breaths bend your knees dopo i cinque respiri piegare le ginocchia vieni in avanti let's go in front fold down vai a terra completamente e poi inspira inhaling chair pose exhaling samasthiti espirando samasthiti let's go for a deep breath respira profondo stay here for a while couple of deep breaths you can also split a little bit your legs close your eyes and breathe apriamo un pochino le gambe ruotiamo le spalle all'indietro chiudi gli occhi e respira ok now we go for the three round ok andiamo a fare i three round quindi concentratevi ognuno secondo la sua fisicità quindi ascoltate il corpo non strafate ascoltato ok so everyone according to your limit to your body don't go too much don't push too much just listen to your body follow your body so in front of your mat andiamo davanti al tappetino samasthiti we start in samasthiti cominciamo in samasthiti inhaling inspira inhaling utkatasana cert pose sedia exhaling down espira giù inhaling lengthen your spine inspira allunga la spina exhaling chaturanga dandasana inhaling upward facing dog inspira cane faccia in giù expira downward facing dog exhaling downward facing dog then right leg in front gamba destra di fronte check your alignment controlla l'allineamento warrior A guerriero 1 guarda su look up exhaling chaturanga inspira chaturanga inhaling upward facing dog inspira cane faccia in giù expira cane faccia in giù exhaling downward facing dog this time left leg in front gamba sinistra di fronte warrior A guerriero 1 o A guarda su look up chaturanga andiamo in chaturanga upward facing dog cane che guarda in su cane che guarda in giù upward facing dog and this time we try to stay five breaths so check your alignment micro bend your knee if you need controlla l'allineamento resta per i cinque respiri then when you're ready with your five breath bend your knees quando sei pronto piega le ginocchia te ne vai davanti let's go in front fall down scendi giù completamente respira inhale in chair pose inspira chair pose utkatasana espira samasthiti exhale samasthiti a big breath let's go for the second round andiamo per il secondo round gira bene le spalle check your alignment so shoulder back inhale in chair pose inspira sedia exhaling fold down espira vai giù inhale in lengthen your spine allunga la spina inspirando exhaling chaturanga espira chaturanga inhaling upper facing dog inspira cane a faccia in giù espira cane a faccia in giù exhaling downward facing dog right leg in front gamba destra di front gira il piede warrior e guerriero uno exhaling chaturanga spira vai ancora in chaturanga inhaling upward facing dog cane che guarda in su cane che guarda in giù exhaling downward facing dog this time left leg questa volta gamba sinistra guerriero ah warrior e exhaling chaturanga again upward facing dog cane che guarda in su cane che guarda in giù downward facing dog and this time we stay five breath questa volta restiamo cinque respiri micro bend your knees if you need it but put your attention on the back so try to push your back away from your shoulders ok cercate di prestare attenzione alle spalle then gently bend your knees look forward guarda davanti a te torna su e cadi giù exhaling down completely inhale chair pose inspira sedia exhaling samastiti espira samastiti couple of deep breath here un paio di respiri qui let's go for the last round e andiamo per l'ultimo round front of your mat samastiti inhaling chair pose inspira chair pose sedia exhaling fold down cadi completamente giù inhaling lengthen your spine allunga la spina completamente exhaling chaturanga espira chaturanga inhaling upward facing dog cane che guarda in su cane che guarda in giù downward facing dog right leg in front gamba destra di fronte guerriero ah warrior hey look at your thumb chaturanga upward facing dog cane che guarda in su cane che guarda in giù downward facing dog and this time we stay for the five breath questa volta restiamo per i cinque respiri keep breathing for three four and five bend your knees piega le ginocchia guarda di fronte a te vai in avanti go in front fold down scendi completamente inhaling chair pose inspira sedia exhaling samastiti espira samastiti legs apart couple of deep breath ok very good now we're going to try three rounds A three rounds B following ok adesso andiamo a provare tre round del surya namascara A tre round del surya namascara B uno dietro l'altro mi raccomando ascoltate il corpo quindi quando vi sentite stanchi semplicemente vi fermate in samastiti so follow your body in any moment you feel tired just stop a little B and enter in samastiti ok so let's go cominciamo respiriamo profondo let's breathe deeply samastiti and we go for the three rounds surya namascara A three rounds surya namascara B e andiamo tre A e tre B so let's breathe inhaling arms up inspira braccia verso il cielo look at your thumb guarda su exhaling completely down inspira completamente giù inhaling lengthen your spine allunga la spina completamente exhaling chaturanga expira chaturanga inhaling upward facing dog inspira cane a faccia in giù expira cane a faccia in giù exhaling downward facing dog and we stay here for five breaths again put your awareness on the back so you can micro bend your knees in case you need ricorda di mettere l'attenzione sulla schiena puoi sempre micro piegare le ginocchia se ne senti l'esigenza after the five breaths so let's breathe together bend your knees piega le ginocchia torniamo in avanti let's go in front fall down completely scendi giù completamente inspira su verso il cielo inhaling arms up up to the sky exhaling samasthiti espira samasthiti one deep breath here let's go for the second round andiamo per il secondo round inspira inhaling arms up look at your thumb espira giù exhaling fall down completely inhaling lengthen your spine allunga la spina completamente exhaling chaturanga espira chaturanga inhaling upward facing dog inspira cane affaccia in su espira cane affaccia in giù exhaling downward facing dog gato mukha and we stay here for the five breaths don't forget your back don't forget that you can bend your knees non ti dimenticare la schiena non ti dimenticare che puoi piegare le ginocchia and after the five breaths dopo i cinque respiri piega bene and let's go in front andiamo davanti fall down completely scendi giù completamente inhaling up inspira verso il cielo exhaling samasthiti espira samasthiti couple of deep breaths here e un po' di respiri profondi qui let's go for the last round andiamo per l'ultimo giro inhaling arms up inspira braccia verso il cielo exhaling down espira completamente giù inhaling lengthen your spine allunga la spina completamente exhaling chaturanga espira chaturanga inhaling upward facing dog inspira cane a faccia in su espira cane a faccia in giù exhaling downward facing dog for the five breaths stay here breathe and if you need you can micro bend your knees resta qui per i cinque respiri se hai bisogno puoi piegare le ginocchia dopo i cinque respiri bend your knees look forward guarda davanti a te button in avanti let's go in front fall down completely scendi giù completamente then inhaling arms up inspira braccia al cielo e ispira samasthiti samasthiti let's breathe couple of seconds let's go for the three round del surya namaskara B andiamo con i tre round del surya namaskara B in front of your mat samasthiti davanti al tuo tappetino samasthiti inhaling chair pose inspira sedia exhaling fold down espira completamente a terra inhaling lengthen your spine allunga la spina completamente exhaling chaturanga inhaling upward facing dog inspira cane a faccia in su espira cane a faccia in giù exhaling adomukha downward facing dog this time right leg in front gamba destra di fronte controlla l'allineamento check your alignment warrior A guerriero A giù in chaturanga down in chaturanga upward facing dog cane che guarda in su cane che guarda in giù downward facing dog this time left leg questa volta gamba sinistra warrior A guerriero 1 guarda su look up down in chaturanga giù in chaturanga upward facing dog cane che guarda in giù in su cane che guarda in giù downward facing dog and we stay here for the 5 breaths restiamo qui per i 5 respiri you can bend your knees how will it be not too much try to straighten up then bend your knees piegate le ginocchio guarda davanti a te look forward we go in front andiamo davanti fall down completely scendi giù completamente inspira chair pose inhaling chair pose exhaling samastiti espira samastiti one big breath here let's go for the second round andiamo per il secondo round samastiti inhaling inspira utkatasana chair pose sedia espira scendi giù exhaling down inhaling lengthen your spine inspira allunga la spina completamente exhaling chaturanga inhaling upward facing dog cane a faccia in su exhaling downward facing dog espira cane a faccia in giù right leg in front gamba destra davanti warrior aim look up guerriero uno guarda in su down in chaturanga giù in chaturanga upward facing dog cane che guarda in su cane che guarda in giù downward facing dog left leg gamba sinistra warrior aim guerriero uno look up chaturanga upward facing dog cane che guarda in su cane che guarda in giù downward facing dog and this time we stay here for the five breath questa volta siamo qui per i cinque respiri bend your knees piega le ginocchia andiamo davanti let's go down completely down andiamo giù completamente inhale interpose inspira sedia espira samastiti exhaling samastiti let's breathe a couple of times let's go for the last round andiamo per l'ultimo round piedi uniti feet together samastiti inhaling chair pose inspira sedia espira vai giù exhaling completely down inhaling lengthen your spine allunga la spina exhaling chaturanga espira chaturanga inhaling upward facing dog cane affaccia in su espira cane affaccia in giù exhaling downward facing dog gamba destra di front warrior a look up guerriero uno guarda in su giù in chaturanga down in chaturanga upward facing dog cane affaccia in su cane affaccia in giù downward facing dog left leg gamba sinistra in avanti warrior a look up guerriero a guarda su chaturanga cane in su the upward facing dog downward facing dog cane che guata in giù and we stay for five breaths stiamo qui per cinque respiri bend your knees piega le ginocchia look forward let's go back andiamo davanti fall down completely scendi giù completamente inspira sedia inhaling chair pose exhaling samastiti espira samastiti ok let's do couple of deep breaths now we're going to see two standing poses padangustasana padahastasana andiamo a vedere due posizioni sempre in piedi padangustasana e padastasana piedi uniti hands on your hips mani sui fianchi inspira inhale and exhale open espira apri con un saltello ok inhaling roll your shoulder back inspira porta le spalle indietro guarda in su look up exhaling slowly we go down espira piano piano andiamo giù afferriamo con le due dita let's grab with two fingers our toes and then gently elbows straight look in front allunga i gomiti e guarda di fronte a te light on your spine then going down exhaling bend your elbows piano piano scendi giù piegando le ginocchia even in this case if it's too much for you you can micro bend your knees anche in questo caso se senti troppo peso puoi piegare poco poco le ginocchia it's a micro bending don't do this ok non fare questo di piegamento leggero leggero it's a light micro bending ok stay here for five breaths three four and five cinque al quinto respiro allunghiamo di nuovo la schiena let's lengthen your spine again this time we gonna place our hands under your feet stavolta posizioniamo le mani sotto i piedi completamente allunga la schiena lengthen your spine again and exhaling slowly you go down allunga la schiena ed espinando piano piano vai a terra il polso deve essere a terra the wrist is on the floor also in this case you can micro bend a little bit your knees anche in questo caso puoi piegare leggermente le ginocchia don't do this it's not a full bend ok non piegare troppo and slowly we stay here for the five breaths restiamo qui per i cinque respiri one two three four and five elbow straight cinque respiri allunga i gomiti allunga la schiena lengthen your spine release your hands rilascia le mani mettile sui fianchi place on your hips and gently we go back piano piano risaliamo guarda in su look up exhaling look down and jump back e saltella indietro samasthiti facciamo un bel respiro profondo e intenso ok i'm gonna show you one more time this pose we're gonna do one more time again ok and then we go to the next one vediamo ancora una volta questa posizione la vediamo ancora una volta bene insieme poi andiamo alla successiva so we start in samasthiti partiamo in samasthiti hands on your hips mani sulle fianchi inspira e saltella exhaling you jump a little bit not too much it's not too wide ok so inhaling shoulder back look up inspira ruota le spalle indietro guarda in su exhaling you go down inspira vai giù 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 allungando la schiena grab your toe your big toe with two fingers afferra il ditone con le due dita lengthen your spine allunga la spina inhaling and exhaling go down espirando andiamo giù piega le gomiti if you need you can micro bend your knees ancora puoi piegare leggermente le ginocchia se hai bisogno e respira qui 5 respira and let's do 5 breaths here 1 2 3 4 and 5 lengthen your spine allunga la spina completamente e poi posizione i palmi nelle mani sotto i piedi place your palm under the feet with wrists on the floor con i gomiti a terra non con i gomiti con i polsi scusate lengthen your spine allunga la schiena bene espirando scendi giù slowly exhaling you go down also in this case you can bend a little bit your knees don't do too much don't sit ok anche in questo caso puoi piegare leggermente le ginocchia non ti sedere completamente però e respira 5 respiri 5 breaths 1 2 3 4 and 5 5 allunga la schiena lengthen your spine release your hands lascia le mani mettile sopra i fianchi hands on your hips inhale you go up inspira vai su look up gently exhaling down espira guarda in giù e saltella chiudi jump back samasthiti padangustasana padahastasana facciamo dei bei respiri profondi e intensi ok ok let's go with the next one we're gonna try uttita trikonasana proviamo il triangolo let's go in front of your mat hands on your hip anche qui posizionamo le mani sui fianchi piega leggermente bend lightly your knees right back leg gamba destro in for not too wide open up apri right foot out piede destro verso il fuori piede sinistro in dentro più o meno ci sono una distanza di tre piedi in mezzo quindi non troppo largo ok normally it's three foot apart it's not too you don't need to do like this ok so bentley let's go back again andiamo di nuovo quindi piega un po' le ginocchia bend your knees right leg back and turn gamba destra vedete questo è il tipo di spazio right foot out gamba destra in fuori piede sinistro in dentro left feet inside foot inside but try to keep your torso in the middle allora il piede destro verso fuori il piede sinistro all'interno la difficoltà di questa posizione qual è? è il busto normally the difficult part in this pose is the torso because we are like this but we need to go in front ok cerchiamo di tenerlo bene su mani verso l'altezza delle spalle hands and arms and shoulders level more or less and lengthen our spine allungando la spina scendiamo verso la gamba we try to go down toward this leg ok you can stop here if it's too much for you but the most important thing don't do this ok just because you want to reach the floor la cosa importante qual è? ti puoi fermare anche qui però non farmi questo per andare verso terra questo è sbagliatissimo so back in the middle let's see together so lengthen your spine lunga la spina piano piano scendi slowly according to your level you try to go down again open well your chest cerca di andare giù apri bene il petto il più possibile look up to the sky to the other hands you can stop on the angle or you can grab your big toe puoi affermare puoi afferrare la caviglia o il dito apri bene petto e schiena try to open well chest and and hip is in the same line of the leg look up to the thumb guarda su verso questo dito questo mano facciamo i cinque respiri let's do the five breaths one uno two due three tre four quattro and five cinque al quinto ci solleviamo on the five slowly we go back torniamo su gira il piede destro turn your right foot let's go left foot out piede sinistro indentro in fuori perché andiamo a fare la stessa cosa try to check your middle your torso and we're gonna do the same thing facciamo la stessa cosa land on your spine ancora allunga la spina scendiamo delicatamente we go down again don't do this ok non fare di girare completamente la spina and slowly according to our limit sentendo il nostro limite andiamo fin dove arriviamo aprendo bene il petto and guardando su open well your chest and look up five breaths here cinque respiri qui one uno two due three tre four quattro and five cinque slowly get up piano piano su facciamo un bel respiro ancora e ruotiamo completamente this time we rotate completely ok we're gonna see the paravita trikonasana the revolve triangle but first of before this prima di andare a vedere il di nuovo il triangolo rotato rivediamo di nuovo questo triangolo before to go and see the other one let's see one more time this one so we just go back andiamo di nuovo indietro respira profondamente let's breathe deeply bend your knees piega le ginocchia right leg back gamba destra indietro apri più o meno la distanza di tre piedi open more or less three foot apart right foot out gamba destra in fuori feet left foot inside torso in the middle gamba sinistra in dentro busto ben articolato al centro arms up braccia verso il cielo slowly lengthen your spine so allunga la spina ancora appoggiamoci slowly according to our limits we can stop on the knee we can stop on the calf we can go on the ankle but remember don't go too much ancora secondo il nostro limite cerchiamo di andare giù ci possiamo fermare dove volendo guardiamo su look at your hands up don't go in front cerca di essere il più possibile dritto guarda su verso il cielo facciamo i cinque respiri let's look up and let's do the five breaths so one uno two due two three tre four quattro and five cinque let's go up piano piano andiamo su gira il piede turn your right foot in left foot out gamba sinistra in fuori controlla il busto let's check your torso lengthen your spine allunga la spina let's go on the other side piano piano scendiamo in questa direzione let's go in this direction again you can stop where you feel comfortable ti puoi fermare dove ti senti comodo apri bene open well your chest look up the thumb guarda su al pollice for one uno two due three tre four quattro and five cinque let's go up torniamo su turn completely this time questa volta ci giriamo completamente anche il busto so this time we're gonna rotate also the torso ok everything in this in the right direction tutto è completamente girato fai un bel respiro let's breathe together left arm up braccio sinistro verso il cielo allunga la spina let's lengthen your spine slowly also in this case try to reach your limit don't go over allora anche in questo caso allunghiamoci secondo il nostro ritmo you can use a block so you can prepare a block close to you if you need se hai bisogno puoi preparare un blocchetto ok so left arm up braccio sinistro allunga lengthen your spine then gently try to place your hand on the opposite side cerca di mettere la mano sul lato opposto also in this case you can use a block for example puoi usare un blocchetto apri bene ok and then gently you're gonna open up your torso but also in this case if you feel that you are not stable enough if you feel that you're losing balance or whatever you don't feel a good stretch but you feel pain you can micro bend your leg maybe you can place your hands on the feet if you are more comfortable or in front of your feet and open up the other arm try to twist more than you can ok cerca di girarti il più possibile quindi in questo caso se senti che non sei comodo se senti che in qualche modo perdi l'equilibrio se senti che le cose non vanno bene puoi usare un blocchetto a fianco quindi posizionare la mano qui piegare leggermente il ginocchio oppure all'inizio quando sei proprio all'inizio anche davanti perché lo scopo di questa posizione è torcersi completamente so you twist completely you stay here for five breaths then gently down poi piano piano scendi up risaliamo giriamo dall'altra parte let's go on the other side same thing ok don't bring your block with width just because I need to turn non portate il blocchetto io lo sto solo facendo vedere gira completamente posizionate il blocchetto opposite arms up braccio opposto land on your spine and gently you place your hands on the floor inside outside of the foot or you can use the block or if it's just the first time that you do this pose you can even place in front of your feet it's up to you or you can bend a little bit your knee se all'inizio se la prima volta potete piegare un po' il ginocchio potete piazzare il blocchetto di fronte a voi o possiamo piazzarlo di fronte a noi and gently we're gonna open up twist completely andiamo a girarci completamente quindi piegate anche un pochino il ginocchio se volete sta a voi for the five breaths one two three four and five and then gently up get back to legs together le gamme insieme samasthiti le gamme insieme le gamme insieme samasthiti mantieni il blocchetto sempre vicino let's go back in front of our mat this time bend your knee piega le ginocchia a big and a wider step facciamo un passetto un po' più largo this time is wider ok? questa volta è largo right foot out gamba destra fuori left foot in gamba sinistra dentro il busto sempre centrale your torso always in the middle arms up braccia verso il cielo bend your knee the right knee piega il ginocchio check your alignment you can place your hand on the front knee puoi appoggiare il braccio sulla gamba davanti a te e l'altro va in diagonale e gira la testa and the other one is in diagonal you look at your armpit actually and stay here for the five breaths if you wanna go more deep se vuoi andare puoi provare a mettere il blocchetto e appoggiare la mano a terra you can use your block and place your hand down and the same thing we go in diagonal and look at your armpit or you can go directly down don't do this che cosa possiamo fare possiamo usare il blocchetto appoggiarci o possiamo andare direttamente con la mano però non ce ne veniamo così ok don't do this never or you can stay here oppure siamo qui facciamo i cinque respiri check your alignment controlla l'allineamento respira 3 3 4 4 5 5 slowly get up piano piano vieni su right foot in gamba destra dentro left foot out gamba sinistra fuori we do the same facciamo la stessa cosa so bend your knee piega il ginocchio poggia il braccio place your arm on the knee and in diagonal and look up facciamo la stessa cosa quindi appoggiamo il braccio controlliamo l'allineamento apriamo bene il petto open well your chest don't do this non facciamo questo su il braccio look up to the sky also in this case you can place your hands on the floor or you can use a block let's stay here for 5 breaths keep breathing for 1 2 3 3 4 4 5 5 slowly get up and we go on the other side again andiamo dall'altra parte ancora this time we turn completely ci giriamo completamente ginocchio a terra knee on the floor check your alignment respira completamente arms up the opposite one andiamo col braccio in su e facciamo il namaste però girata I'm gonna show you the other side ok we are like this siamo così andiamo appoggiare il gomito all'esterno we're gonna place our elbow outside and look up ok we twist completely ci giriamo completamente quindi gomito al di là del ginocchio e respiriamo ok ok let's we were here lavamo qui tuck your toes arms up braccio verso il cielo allunga place your elbow on the other side namaste now you can stay here like this if you're comfortable puoi restare così o puoi sollevare il ginocchio or you can go with your knee up and count the five breaths conti cinque respiri one uno two due three three four quattro and five cinque gently go back piano piano risali ok and we turn on the other side stessa cosa knee on the floor ginocchio a terra respira profondamente keep breathing arms up braccio su posizioniamo al di là del ginocchio let's go beyond the knee namaste or anjali mudra in front of your chest facciamo il namaste or l'anjali mudra you can stay in this pose if you are more comfortable puoi restare qui o possiamo sollevare il ginocchio or you can go up with your knee try to twitch cerca di torcerti e count the five breaths one two due three tre four quattro five cinque slowly get up piano piano su step back in avanti samasthiti respira let's open a little bit our legs and we breathe deeply take your time all the time that you need we are not in a hurry let's calm our heart down let's calm our heart down let's be so breathe deeply take your time all the time that you need we are not in a hurry prenditi tutto il tempo che vuoi non andiamo di fretta shoulder back open while your chest apri bene il petto e respira let's go back in front of the mat andiamo di nuovo di fronte al tappetino mani sui fianchi hands on your hips bend let's be piega leggermente right leg back gamba destra in fuori three foot apart not too much wide this time questa volta anche non troppo largo più o meno misurate i treppiedi ok and this time the feet are inside and the heels outside questa volta vedete le dita dei piedi sono all'interno mentre i talloni spingono all'esterno inhale look up inspira guarda in su roll your shoulder back rotola le spalle all'indietro exhaling piano piano andiamo verso terra appoggiamo le mani let's put our hands on the floor lengthen your spine allunga la spina completamente e poi rilassa completamente exhaling relax completely bend your elbows if you need in this case you can just bend a little bit se hai bisogno puoi solamente piegare un pochino 5 breaths here respira 3 3 4 4 and 5 5 lengthen your spine again allunga la schiena di nuovo hands on your hips mani sulle fianchi inhale you go up look up inspira guarda in su exhaling look in front respira guarda in su davanti a te inhale and exhale inspira ed espira shoulder back apri bene le spalle gomiti verso dietro inhale look up inspira guarda in su exhaling you go down this time you keep your hands on the hip questa volta tieni le mani sui fianchi e stai giù you go down also in this case if you need you can bend a little bit micro bend your knees anche in questo caso se abbiamo bisogno pieghiamo leggermente cerchiamo però di aprire bene il petto 5 breaths here 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 slowly inhale go up piano piano inspira vai su verso il cielo exhaling down inhale inspira espira incrocia le mani exhaling cross your fingers behind your back ok inhale shoulder back inspira rotola le spalle indietro look up exhaling we go down ispirando andiamo giù 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 cerchiamo di attivare le braccia try to activate your arms stay here for 5 breaths resta qui per 5 respiri anche in questo caso puoi piegare leggermente le ginocchio also in this case you can micro bend your knees if you need it respira for 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 slowly inhaling piano piano vai su look up release your hands rilascia le braccia exhaling down inhale and exhale inspira ed espira andiamo per l'ultima volta inspira guarda in su inhaling roll shoulder back look up exhaling this time we go down we grab our toes se afferriamo il pollicione the big toe with the two fingers con il con le dita length on your spine allunga la spina exhaling relax espira cerca di spingere il più possibile e stai qui per i 5 respiri let's stay here for 5 breaths so 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 allunga la spina length on your spine again hands on your hip mani sulle fianchi inspira vai su inhaling look up exhaling look down inspira vai giù gira i piedi turn your feet and step back unisci i piedi samasthiti respira profondamente andiamo qualche secondo in child pose nella posizione del bambino let's go for couple of seconds in child pose sit on your heel knees apart a little bit sedetevi su talloni ginocchia divarecate front a terra forehead on the floor couple of deep breaths in this pose facciamo una un paio di respiri in questa posizione respira profondamente e intensamente now gently head up piano piano solleva la testa shoulder back, raddrizza la schiena un paio di respiri in questa posizione now we sit comfortably, ci sediamo comodamente e andiamo a metterci in shavasana, l'ultima posizione we're gonna go in the last pose shavasana for the last time ci rilassiamo completamente facciamo circa 5 minuti qui let's do for 5-7 minutes here legs apart, gambe divaricate arms apart and completely relaxed if you need, you can cover up if you have a pillow, a blanket for example you can cover yourself just to not feel so cold ok? it's up to you if you need it ok? let's stay here resta qui, vi potete coprire se avete bisogno della coperta perché siamo 5 minuti completamente rilassati qui chiudete completamente gli occhi close your eyes and relax completely just listen only to your breath respira e ascolta solo il respiro e allo no 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 Grazie. 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 exhale inspira despira in a half for the om chant inspira per l'om Aum Aum Take your hands to the forehead, metti le mani verso la fronte, let's go to the floor, andiamo verso terra. We thank you Mother Nature, ringraziamo Madre Natura, we thank you the first yoga teacher, ringraziamo il primo maestro di yoga, ringraziamo noi stessi e il nostro corpo, we thank you ourself and also our body, we appreciate every person in our life e apprezziamo ogni persona nella nostra vita. Slowly get up, piano piano su, namaste. Hope you enjoyed this lesson, if you have any questions, just let me know. Spero che vi è piaciuta questa lezione, per qualsiasi domanda fatemi sapere, ci vediamo alla prossima, see you next time.